Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco Pagani e oggi siamo su The Lego Movie E scrivete qui sotto nei commenti qual è meglio per intro No, dite bene? No Tu non dici mai bene in fondo Tu fai lì in fondo, guarda giù Io sei quel mostro No, scherzo Bene Spero ci stai mettendo 3 minuti solo per metà il video Ok, lo più veloce stavolta Anche se ho la velocità di un mattoncino messo a ralenti Ralenti non scopo Ah ragazzi, io ancora ho di scappare Ragazzi, che sfortuna non puoi entrare in questa zona Ragazzi, chi ha The Lego Movie festeggi per la morte? Più replica di tutta Ma scrivetelo qui sotto nei commenti come siete morti Perché dice che ce l'ho proprio bene? Dice te ce l'ho proprio bravo Sì, grazie Ciao, bello Ma perché poi noi possiamo controllare i robot epici? Probabilmente Ma poi lo devi sapere tu No, veramente Ma probabilmente dobbiamo prenderlo noi Non lo dobbiamo prenderlo Dai Dobbiamo risolvere un nostro amico Non è il nostro amico capra Sì, l'abbiamo fatto amico Ah, ho capito ora Com'è il sangue No Ragazzi, mi metto anch'io così Ragazzi Ho fatto esplodere qualcosa? No Ah già Un diamante Non credo sia un diamante Solo? E non credere sia un diamante solo Però non crederti che sia un diamante È meglio di un diamante Ma salta il raggio laser No Non è un modo per fare spaventare Tutti Ecco E' meglio rispetto Ragazzi Torsolo di mela, eh Hai capito? Ovviamente Il presidente Bani Scoglie Somma Perti Tutte le dimensioni È un mondo Sveglia Sveglia È un problema È un problema È un problema Sveglia Ti prego Ti prego Savi Basta Stai usando le cose Nel mondo reale Per costruire Fico Bravo Ti sei riuscito a friggere Ancora bravo Grazie Ma che succede? Sveglia appena finiamo il gioco Ci portiamo i video di cazzeggio Sveglia appena finiamo 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 i video di cazzeggio Prendiamo i video di cazzeggio Ragazzi usciranno dei cazzeggio Ragazzi usciranno dei cazzeggio C'è il cazzeggio No No L'ho impedito a pronunciare cazzeggio Ma tu sei impedito in tutto Lo sai Hai ragione Hai ragione Che cos'è una calcola? Una calcola Una calcola Sveglia È un foglietto È questa roba Odai Ha capito Devo fare due Cinque Dov'è cinque Non vedo niente Cinque No È due Devi praticamente fare zero Ho capito Zero No Aspetta Zero Due No Aspetta Devi mettere il puntino Zero Puntino Due Zero No Zero Puntino Due Cinque Sei Nove Sette Sette Dovrei aver finito In realtà c'è solo il zero puntino se lo noti C'è solo il zero puntino abbiamo fatto Ok Ok Te devi premere uguale secondo me Vabbè Ok premiamo uguale Piano Vai premi uguale Uguale è un cavolo Questo è il vetro? No No è carta stagnola Ok Perché Unikitty si sta incazzando? Ogni volta che salta Un unicorno e Batman Non puoi andare d'accordo Unikitty Unicorno gatto Non puoi andare d'accordo Batman Ok Com'è una tutta il polpito 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 Guarda Guardi, guardi, guardi Che 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 cosa No troppo epico Più 20 gigabyte Questo divana Unikitty malattina Normalmente Barba Barbacciaio Minishu Minishu Penbot Minina Robot Polima Polima Polipa C'è giù Polipa Ah, è la mamma di Poli Di Poli duro Robo Swat Arma Allora, sai, noi li ama i Robo Swat Ragazzi, sono i Robo agente Pure questi Cioè, tutti i Robo li amano Ragazzi, mi piacciono Sarai che Manganelli e RPG Di tutto Manganelli e RPG Armi Laser Mi hanno prevelato Mi hanno Prevelato Mi hanno Mi hanno Levatto Centesimi Euro Bene, ragazzi Il video può Tenere qui Se il video vi è piaciuto Mettetemi Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo Ciao 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 Ciao